la serie brother pr vi consente di raggiungere risultati professionali ed è ideale per l'impiego sia familiare che aziendale la macchina offre molteplici funzioni e combinazioni oltre a un'area di lavoro particolarmente ampia pensate che arriva a fare 36 centimetri per 40 lavorando su qualsiasi materiale garantendo ricami di eccellente qualità contattateci per un prezzo speciale oltre a 5 anni di garanzia vi offriamo tutta la nostra professionalità e consulenza gratuita chiamaci subito per non farti sfuggire questa promozione